Devono morire, devono morire, devono morire, vedo su internet delle cose, degli annunci, lifelong learning, una palestra per la mente, lifelong learning, la mente, parliamo di mente che qui è azzerata, il termine lifelong learning si rifinisce all'apprendimento che ognuno di noi compie lungo tutto l'arco della sua vita, grazie, e poi diventa junior hotel manager, partecipa all'executive master full time, dai, dai, in hotel manager and digital tourism, dai, vai così, che non si capisce un cazzo, dai, che non, andiamo avanti, che non capiamo un cazzo è più bello, partnership formativa, hotel manager and digital tourism, digital HR for talent attraction, inclusion, diversity, management, così, che non si capisce un cazzo, bravi, e poi vedo qui backslash per Aranzulla, che è quello che insegna talmente chad da fare il giro e diventare cringe, non si capisce un cazzo smeriglio nei maroni, ma non solo nei maroni, nel culo, nelle chiappe smerigliate, che dopo rimane soltanto uno smeriglio da cacciar via, che fa zin, 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 basta!